giovani buongiorno e ben ritrovati nuovamente sul canale di napolis 1926 ma questo non è stato il primo o il secondo video ma rimane poco il tempo che edita e poi decidiamo comunque tu sei un fenomeno a contromano grande grande o no si grossi comunque iscrivetevi al canale è gratis manca sempre meno ai 4k per l'esaltezza 20 iscritti quindi il tasto mi piace è fondamentale quindi lasciate il tasto mi piace perché è fondamentale signori vorrei parlare di quello che è uscito nelle ultime ore young to vorrei parlare un attimo di young to ragazzi perché questo ragazzo che nel 2023 fa coming out e tutti i giornali riportano la notizia come se fosse qualcosa di incredibile ragazzi no come se fosse una cosa incredibile una lettera astruggente proprio di young to sul suo il video dove lui dichiara di essere omosessuale dichiara tutto il suo amore non vuole non vuole più pregiudizi nei suoi confronti video veramente toccante comunque ragazzi io mi vorrei soffermare su questa cosa siamo nel 2023 siamo nel 2023 e gente e gente come young to come giocatori perché poi young to non sarà il primo e non sarà l'ultimo a fare coming out ragazzi e c'è ancora questa cosa di sorprendersi no uno dice ma come fa è possibile è omosessuale gay come è possibile ragazzi ma siamo nel 2023 e voi vi fate ancora i problemi e parlo con quelli che hanno la mentalità chiusa perché alcuni hanno una mentalità chiusa dove dovesse stare ai tempi del medioevo secondo me per quanto siete ignoranti no questi dicono no mo partono subito le battute contro young to e mo ora quando si va a fare la doccia nessuno si vorrà fare la doccia lui perché è gay di qua e di là ragazzi ma veramente state cadendo così in basso cioè questo è un ragazzo che ha sofferto tanto nella sua vita no perché poi nel mondo del calcio lo sappiamo come com'è questa cosa dirò io sono omosessuale e nel mondo del calcio è visto un po come un tabù perché uno dice no questi giocano a calcio quindi devono essere per forza maschi non possono appartenere a questa categoria di persone cioè ragazzi io sinceramente sinceramente io preferirei un figlio gay che non un figlio malandato che va a fare le rapine che spaccia che fa io sono sincero sono sincero l'importante è quello che questo ragazzo prova dentro prova amore per per un uomo basta voglio qual è il vostro problema cioè io questo non riesco a capire perché deve fare notizia notizia una cosa che al giorno d'oggi dovrebbe essere normale dove ognuno dovrebbe vivere il proprio amore come gli pare ricordatevi una cosa quello che fa lo fa per lui non lo fa con qualcosa di vostro cioè ragazzi è questo che non riesco a capire poi quando quando vedo questa gente che dice ah no com'è possibile un bel ragazzo come lui c'era ma qual fosse proprio c'era io questo che non riesco a capire no qual è il vostro problema ma se un ragazzo si dichiara gay nel 2023 cioè ragazzi è questo che non riesco a comprendere perché vi da noia che una persona sia gay cioè è questo che non riesco perché perché vi da così noia cioè voglio io ve lo giuro non riesco a comprendere questa cosa non la riesco a comprendere veramente anzi io mi auguro che ci siano altri giocatori altri giocatori che sfadino questo dal punto di essere gay nel calcio perché voglio ci sono i giocatori che ci sono ci sono anzi vanno aiutati vanno aiutati a non sentirsi discriminati da qualche bulletto nello spogliatoio perché dobbiamo dirlo agli ucci sono gli scemi nello spogliatoio come ci sono gli scemi in terza categoria ci sono anche gli scemi in serie a quindi tralasciando questo ha fatto benissimo il ragazzo a dichiararsi perché voglio credetemi secondo me deve essere bruttissimo vivere in una situazione dove tu ti senti oppresso dalla società di oggi e deve essere brutto veramente voglio io non sono di quella sponda lì non sono gay non sono omosessuale però voglio io sinceramente a me quando lui ha detto sono che a me non mi ha fatto né caldo né freddo ma perché deve essere la normalità voglio deve essere la normalità e invece no no noi ci andiamo a fare i titoloni di giornali dobbiamo dare la notizia è gay quindi dobbiamo dare la notizia cioè ragazzi serve il rispetto nelle persone serve il rispetto alcuni non ce l'hanno il rispetto se tu hai deciso che sei gay alcuni dicono è una malattia ma io ve le darei le malattie proprio le malattie mentali le malattie terminali vi darei quando quando fate questi ragionamenti perché voglio questo è un ragazzo bravissimo bravissimo e voi lo bistrattate solo perché queste sono cose che a me nel 2023 mi mandano al manicomio voglio io sono sincero mi mandano veramente al manicomio sono cose che io schifo schifo con tutto me stesso scusatemi lo sfogo ma lo dovevo dire lo dovevo dire mi dovevo levare questo sassorino dalla scarpa sempre e comunque forza napoli dal vostro napolis 1926 ciao agliù